Il 12 giugno si terranno dei referendum che potrebbero contribuire a cambiare davvero il rapporto tra lo Stato e il cittadino, potrebbero contribuire a fare dell'Italia un Paese più garantista e quindi un Paese più libero. Io rivolgo un appello accorato a tutti gli italiani perché vadano a votare, perché diano il loro voto su un argomento che prima o poi potrebbe riguardarli tutti personalmente. Grazie.